La visita del Presidente Mattarella in Svezia, il Capo dello Stato, è intervenuto all'Università di Lund e ha parlato di Europa e della necessità di sorvegliare, di difendere i risultati raggiunti. In diretta dalla Svezia c'è Luciano Gelfi, a te Luciano. Sì, nella storia i passi indietro sono sempre possibili. E' questo l'ammonimento in tema d'Europa che il Presidente della Repubblica Mattarella ha formulato qui all'Università di Lund, una delle più antiche e prestigiose del continente. Mattarella non si nasconde la frase complessa che l'Unione sta vivendo. Crisi economica, ondata migratoria, Brexit, tanti fattori che hanno generato un sentimento di lontananza dei cittadini. La risposta per il Presidente Mattarella non può essere che più Europa. Sbagliato, dice, vederla come una sorta di fiera delle opportunità cui attingere secondo delle convenienze spicciole non si possono dare per acquisiti per sempre risultati di pace, democrazia, benessere e economico. Più Europa quindi per garantire lavoro, parità di genere, assistenza a lungo termine, cultura, libera circolazione delle persone. Di rimente per Mattarella un chiarimento sulla strada che i popoli europei intendono percorrere. Sugli obiettivi dell'Europa sentiamo un passaggio dell'intervento del Capo dello Stato, poi linea Roma. Creare una unione sempre più stretta fra i popoli d'Europa, le cui decisioni vengano assunte il più vicino possibile ai cittadini, secondo il principio di sussidiarietà. Non siamo cioè una semplice unione doganale, non siamo una sorta di comitato d'affari. Con la manovra l'Italia gioca la carta delle privatizzazioni e il ministro Tria dice il problema della crescita è europeo e andrebbe affrontato insieme, non in modo separato e conflittuale. Gabriele Flamma. L'obiettivo è...